come hai sbagliato purtroppo è così è perché mi sono stufato ieri è stato un disastro come ieri siamo veramente a ruffano non si scherza siamo stati molto penalizzati da questa posizione occhio perché un altro livello iniziamo male visto che antonio e gabriella ci hanno portato regalini spettacolare buona serata a tutti ben tornati sul canale benvenuti in questo nuovo video ma se non ci conosci siamo emmanuele matteino e viaggiamo sul nostro camper gold in giro per l'europa quindi piacere di conoscerci ti spieghiamo subito che cosa stiamo facendo qui a ruffano ma prima iscriviti al canale se non lo hai ancora fatto almeno sulla fiducia e se ti piace il video metti un bel like stiamo facendo il nostro secondo mercatino di natale il primo lo abbiamo fatto a dostuni ed è stato veramente un disastro trovi il video nella i qui in alto a destra ma a parte un inizio disastroso siamo super positivi perché qui a ruffano c'è veramente un sacco di gente ragazzi sono passati a trovarsi degli amici ciao buona serata a tutti da ruffano portarsi un po di calore in questo freddo della della piazza fare il nostro meglio grazie abbiamo apprezzato le candele che prese due candeline grazie 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 a voi grazie a voi per il lavoro che fate ciao ciao questa volta abbiamo allestito così che più o meno come l'altra volta un po più piccolo grazie a voi grazie a voi ci siamo portati al mercatino di natale river 2 pro perché gli abbiamo collegato tutte le luci a chiudere il tuo luci del banchetto dato che il banchetto aveva un unico punto luce e noi abbiamo bisogno di collegare due faretti e le luci di natale i prodotti eco flow al loro interno hanno delle batterie lfp di grado e v ad alta tecnologia e questa river 2 pro aumenta la sua capacità grazie al sistema x boost da 800 watt fino a 1600 watt tra l'altro ragazzi se volete regalare per natale o regalarvi per natale un eco flow sulla totale gamma dei prodotti eco flow sul loro sito ci sono degli sconti speciali fino alla fine dell'anno in più se mettete il nostro codice sconto avrete un ulteriore sconto del 5% su ogni prodotto eco flow vi lasciamo tutto nel link in descrizione c'è anche da dire che al freddo dato che ci sono otto gradi lavora molto molto bene hanno un aroma particolare la prima serata si rivela davvero un fallimento perché le uniche candele che abbiamo venduto le hanno prese gli amici che sono passati a trovarci francesca saluto camper ciao camperlust camperlust secondo me l'obiettivo vuole cosa deve essere un ruvino l'obiettivo no ma c'è buon ci scoppia a cui grazie ciao ciao buon natale grazie ma siamo super positivi per la seconda giornata di mercatini pronti pari giorno amici secondo giorno dei mercatini ruffano siamo appena partiti oggi guida ovviamente siamo pronti per prendere un'altra bella fraccata di freddo come ieri ieri abbiamo sfiorato quanti gradi? 7 gradi 7 gradi c'è freddissimo meno male che qua faccia caldo l'inverno meno male oggi guida il capitano un grande ritorno un piacevole ritorno il capitano di nuovo alla guida perché perché mi sono stufato che ogni volta che c'è un buco su queste strade pugliesi che voi amici pugliesi conoscete bene perché sono piene di buchi dei crateri ogni volta che prendo un buco mi sento dire eh ma basta eh ma fai attenzione eh ma qua eh ma sulla giù quindi oggi ho detto oggi guidi tu così ti posso assillare ogni volta che prenderai un buco infatti non ne ho ancora preso un buco guarda come vado veloce eh qua qua poi vediamo dopo e va bene che abbiamo ammortizzatori davanti nuovi e sospensioni ad aria posteriori le palestre secondo me sarebbero da rifare comunque eh le strade sono quello che sono purtroppo è così direzione ruffano abbiamo già degli amici che ci aspettano che sono venuti a trovarci andiamo vuoi dire qualcosa capitano? no no voglio solo dire una cosa speriamo di vendere qualcosa perché se di nuovo come ieri siamo veramente ieri è stato un disastro c'è un camper c'è un camper saluta ciao ciao ma non ho salutato ecco il capitano stava volando il rifornimento menga petroli e chi è? dove vado? dove c'è il diesel? come hai sbagliato? eh dovevo girar di là vabbè dai tanto è già tardi mano ai buchi eh uno spero che non mi faccia infilare in qualche via di merda mi alzi il rinforzo mi alzi il rinforzo non sento niente certo che non mi faccio giro eh sì ma prendili piano sti dorsi dove ti fa girare adesso? qui spero di passare eh vabbè manu e le strettoie svolta a sinistra e prendi strada vicinale scopielli ma non metti niente ha gli occhiali da sole eh no me l'hai messo male ecco adesso è colpa mia dai 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 porta via tutti gli specchietti di ste macchine fa vedere chi comanda dai forza con prepotenza dai io non vedo io vado se stradico qualcosa come io non vedo vado? io vado se stradico qualcosa ah ma sì ma poi come fai? passi dai che passi dai guarda passi hai sbagliato strada vabbè dai ce l'ho fatta sì occhio buco madonna a me non lo vi eh non lo vi oh senti tu lo fai tutti i giorni non mi romperai le palle senti mi vuoi fare il nervosire guarda che mi fermo qua scendo no ma scusa ma guarda la strada c'era un buco così quanti ne hai presi di buchi così quanti ne hai presi di buchi così guarda l'ho fatto apposta oggi a farti guidare per farti rendere conto che com'è guidare su ste strade bravo mi dice sempre vai piano vai piano guarda 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 che buco lo prendiamo bravo allora mi vuoi fare incazzare perché ci stai riuscendo se è quello il tuo intento stronzone prendi un po' di spazzatura dai guarda qua c'è anche un triciclo bello il triciclo madonna vabbè abbiamo preso la madre di dio buco tu se li stai prendendo ma cosa dici non li ho neanche sfiorati comunque sei proprio antipatico quando puoi così su dirtelo ripago con la tua moneta cos'è un pesce qua per te ha una scarpa una scarpa una sabata siamo arrivati ora nel parcheggio qui a Ruffano e guardate oggi camper hai visto quanti camper hai visto un po' di spazzatura no vabbè il gris no vabbè il gris spettacolare wow ho perso il senso dell'orientamento non so più dove sono sa che è di qua ma che cazzo sono finito se non mi vedete nel prossimo video sono ancora qua per le vie del centro che giro sono arrivato l'altra chiesa è spettacolare al di là delle decorazioni che sono veramente strepitose però anche il paese è veramente molto bello le orecchie sono vere meridissime benissimo è un po' di testimoniare assolutamente le sue e le sue soprattutto le sue sì le sue sono molto naturali come mamma t'ha fatto è vero mi raccomando fate i buoni soprattutto grazie Elfy grazie a voi ciao eccoci qui tornati alla casa base Camperlust comunque ragazzi ruffano Natale senza parole organizzato veramente bene, intendo tutti gli addobbi, le cose, fantastico caro babbo Natale che sei a Rovaniemi, occhio perché qua non si scherza occhio che... bravi a ruffano complimenti, veramente... se siete da queste parti fino al 6 gennaio venite a fare un giro perché è veramente figo, bello, consigliato tutta la famiglia al completo ciao ci sono venuti a trovare Antonio e Gabriella ciao e Pongo e Peggy e Peggy e tra l'altro ci hanno portato un regalo che adesso apriamo a Natale grazie ragazzi hai visto che Antonio e Gabriella ci hanno portato regaline? io so cosa c'è, tu non lo sai non lo saprai, no davvero, quando ci sono queste cose... si veramente, ci si riempie il cuore perché fa proprio piacere, vuol dire che veramente entriamo un po' nelle case, no? si, siamo contenti grazie a me scherzo, a parte gli scherzi, davvero grazie lo apriamo a Natale grazie sono arrivati anche i ragazzi della Red Bull a portarci un energetico avremmo preferito un vin brulepo caffè caldo la temperatura però grazie a Red Bull grazie, è vero la seconda serata di mercatini per noi è stato un vero successo grazie a tutti quelli che le hanno prese e a tutti gli amici che sono passati a farci un saluto no, no, grazie che locale è questo? serata epica epica grazie ai ragazzi abbiamo capito che fare i mercatini è anche un momento per incontrare tutti voi che ci seguite nei nostri viaggi quindi grazie ancora a tutti voi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao